bene ragazzi ciao amici di fisherlandia benvenuto nuovo video oggi vi voglio presentare vi voglio recensire una canna della tubertini vi sto parlando della anchorage da tre metri in questo caso andiamo a vederla da vicino e poi ci vediamo dopo per le conclusioni finali vi dico subito che questa è una canna che può adattarsi molto molto bene alla pesca allorata come la facciamo qua noi a genova e non solo perché è una canna disponibile in tre misure diverse tre metri tre metri trenta tre metri sessanta la tre metri assolutamente la vedo la più idonea delle tre per la pesca allorata come la facciamo qua noi utilizzando i nostri cimini molto morbidi e molto sensibili una canna che viene già venduta con due cimini a innesto che sono uno più bello dell'altro quindi che vanno benissimo quindi utilizzata per il bolentino a una portata massima di 180 grammi di fusto quindi come peso appeso nel senso non come lancio chiaramente mentre invece se la andiamo utilizzare diciamo a lancetto o a lancio nelle misure un pochettino più lunghe direi di non superare i 50 60 70 grammi massimo utilizzando il cimino diciamo più rigido o prendendone un altro ancora più rigido ma poi le vediamo dopo queste cose nelle mie considerazioni finali andiamo a vederla subito da vicino ragazzi bene quindi iniziamo come al solito dalla custodia una custodia che ha poco da dire materiale plastico scritta stampata tubertini ai qualiti ancore g3 metri massimo 200 grammi riportati 200 grammi sulla sulla foderina ma 180 invece nelle specifiche che abbiamo noi su questa canna qua abbiamo chiaramente i due taschini che ci permettono di tenere divise e quello che è la canna con il tubo dei cimini che andiamo a vedere dopo quindi arriviamo subito a vedere la canna la canna è questa come vedete ve la facciamo ve la faccio sfilare come al solito in modo che ne possiate gustare le rifiniture devo dire rifiniture molto 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 belle molto belle quindi tappo anodizzato con questo argento opaco la scritta tubertini questa rilegatura che chiude che accompagna il diametro del tappo un tappo che secondo le specifiche da tubertini è in eva stondato quindi a vite proprio per il combattimento per chi volesse diciamo appoggiarlo a linguine quindi andiamo avanti materiali neva duro per quanto riguarda l'antiscivolo di questa canna placca va una placca particolare con questa bombatura sopra non male è non male è una discreta una discreta impugnatura assolutamente rifiniture molto belle questo è uno stile che a me piace andiamo poi a quello che c'è invece scritto sulla canna tubertini qua vediamo riportata la scritta anchorage vedete in questo caso continuiamo abbiamo la dicitura 3 metri massimo 200 grammi e poi qua sotto abbiamo le solite scrittine che sono i due multitip quindi i due cimini compresi nella canna vediamo qua c'è scritto bolentino chiaramente vi ricordo che questa è una canna questa è una sbavatura ah no 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 era soltanto una macchiettina vi ricordo che la chiaramente la tubertini la consiglia per il bolentino poi noi invece qua ne facciamo un uso alle volte anche diverso abbiamo qua l'adesivino della tensione sul sul carbonio poi andiamo a vedere come anellata semplicissima abbiamo un primo anello misura 20 fisso sul manico della canna e poi abbiamo gli altri che invece sono a ponte singolo abbiamo molto molto interessante la pezzatura di questa canna piuttosto corta cioè quindi ogni elemento di questi è molto più corto rispetto al manico questo dà chiaramente una certa robustezza una certa resistenza una certa azione molto rigida alla canna vedete abbiamo esattamente uno due tre quattro anelli quindi quattro elementi telescopici sul manico di questa 3 metri andiamo a vedere adesso un secondo da vicino le cime chiaramente la canna vi viene consegnata con il parapunta originale che serve per evitare che si apra accidentalmente in questo caso non ci sono i cimini telescopici quindi non serve assolutamente per proteggere la cima abbiamo un tubettino molto comodo in plexigas trasparente dove portiamo tubertini anchorage tip ok questo è il porta cimini dove sono dentro contenuti vi ricordo questi due cimini qua questo qua è uno dei nostri che è quello che facciamo far noi che comunque è disponibile anche quello andiamo a vedere due cimini due cimini sono uno leggermente più lungo e uno leggermente più corto vedete la base adesso io ce l'ho pari quindi si parla di due dita tre dita quindi 3 4 cm di differenza abbiamo quello più lungo che assolutamente è la misura l lo vediamo anche riportato qua vedete la scritta tubertini m per il medium e tubertini l invece per il light il lungo è il light ha una leggera azione maggiore di punta leggermente più morbido nell'arcata mantenendo questo leggermente più rigido invece assolutamente si sente anche piegandola appena appena con le dita chiaramente mantenendo un fusto in questo punto delle cime piuttosto rigido che accompagna la canna ve lo faccio vedere visto che so già che me lo vorreste chiedere questi sono i nostri cimini ve li faccio vedere ancora una volta la differenza di questi cimini è che questa parte viene spiralata e quindi viene verniciata per renderli molto gommosi la schiena di questa di questo cimini invece è molto molto rigido per tirare giù il resto della canna bene ragazzi abbiamo visto da vicino questa anchorage direi che possiamo andare alle nostre conclusioni finali eccoci tornati ragazzi quindi come al solito abbiamo visto questa canna da vicino ora veniamo un po a qualche considerazione allora come voi sapete avete visto un sacco di video nostri dove noi utilizziamo e vendiamo moltissimo la canna tubertini mistral siccome che la tre metri della mistral al momento è terminata anche in azienda proprio quindi abbiamo dovuto scegliere una canna e questa era una canna che io già conoscevo ma siamo riusciti diciamo ad averla e cercando di rimarcare il meno possibile il gap di prezzo che c'era fra la mistral e la anchorage in effetti questa è una canna che secondo il mio punto di vista rispetto alla mistral è assolutamente superiore è più piccola di fusto ha un pelo di rigidità in più mantenendo comunque sempre l'azione giusta di questa canna ha sempre il suo manico molto lungo quindi per chi lo utilizza diciamo per il lancetto va benissimo chi volesse fare la modifica lo sconsiglio su questa perché è veramente ben rifinita come abbiamo visto sul calcio e si può comunque sempre tagliare e rimontare un tappo più corto se a qualcuno desse fastidio questo manico un pochettino più lungo ma vi consiglio comunque prima di provarlo è un intervento da poco ma dopo un taglio non si torna indietro allora un paio di consigli ragazzi questa è una canna che viene chiaramente consigliata come canna da bolentino quindi trovo una giustazione per il bolentino assolutamente nelle tre misure idonee tutte e tre in base anche alla lunghezza dei nostri terminali all'utilizzo possiamo addirittura avanzare l'ipotesi di fare un light drifting con la 3 metri 60 quindi una canna che ha le caratteristiche di fusto e di cima assolutamente adatte quindi per il bolentino dicevo si può utilizzare le caratteristiche tecniche che mi vengono date da catalogo sono 180 grammi e chiaramente non è una canna è una canna da bolentino medio leggero questa una canna da bolentino che consiglierei entro i 100 metri di profondità nell'eventualità noi dovessimo montare un piombo da 150 180 la canna assolutamente non ha nessun tipo di problema se non che avendola provata e con successo anche ma l'abbiamo provata per orate nella misura 3 metri appunto sempre nella misura 3 metri abbiamo provato a vedere come si comporta il cimino che vi ricordo esserne due in dotazione abbiamo provato il cimino m che comunque con 100 150 grammi beve troppo a mio vedere quindi in questo caso io vi consiglierei nei due estremi quindi se volete utilizzarla con tanto piombo avere comunque una cima con tanto piombo potete comprare un cimino originale della tubertini da noi noi possiamo lavorare in modo che l'innesto vada esattamente a inestarsi nella precima della canna ma un molto molto più rigido ok quindi molto più rigido vi dico di comprare quelli della tubertini perché hanno un prezzo molto interessante che è di 20 euro l'uno vi ricordo che non ve l'ho detto la canna costa intorno agli 86 euro completa già di due cimini quindi due cimini il suo tubo il suo parapunta completo 86 euro un prezzo assolutamente onesto e dignitoso come lo erano gli 80 della minstral in precedenza quindi è chiaramente qua sotto vi linko il simio sito internet dove la potete già acquistare senza problemi per quanto riguarda il cimino invece questo direi che è un cimino che va bene la misura m quindi il medium va benissimo fino ai 40 50 60 grammi devo dire che si comporta molto bene il light che io conosco molto bene perché sulla minstral lo utilizzavo va bene anche con 5 grammi basta avere la giusta sensibilità assolutamente se poi per di più nel volentino utilizziamo la treccia nel mulinello assolutamente riusciamo a pescarci veramente con pochi grammi con questo cimino vi ricordo inoltre che per chi di voi volesse fare la pesca allorata come la facciamo noi qua genova ormai è diventato un must molti di voi ce l'hanno in tutta italia e noi proponiamo questi cimini che sono veramente morbidissimi li utilizziamo quando andiamo a pescare sgrammati quindi senza piombo soltanto con l'esca nel caso della cozza o del muscolo e abbiamo bisogno di cimini così che sono lavorati andate a vedere i nostri video così vi dico anche tecnicamente come sono fatti chiaramente la base dei nostri cimini va lavorata per poter far sì che vada a combaciare perfettamente sulla precima è un'operazione da farsi assolutamente e ogni cima deve avere la sua canna e non sono intercambiabili perché potrebbero esserci delle piccolissime differenze che poi non vanno bene quindi anche questi li trovate linkati qua sotto e ve li linko anche qua sotto potete comprarli anche se voi siete di fuori genova noi vi li prepariamo e poi vi spediamo la canna con il cimino un altro utilizzo al di là del volentino quindi abbiamo visto un medio leggero come volentino anche perché andando a fare volentino di profondità superando i 100 metri si può fare sicuramente un volentino manuale ma vi consiglio comunque le canne in tre pezzi apro e chiudo la parentesi è una canna che va molto bene per la pesca allorata allora noi qua utilizziamo moltissimo la 3 metri perché spesso l'orata andiamo a pescare sui moli o sui pontili quindi dove non abbiamo bisogno di uno sbraccio di canna particolare la 3 metri è una giusta azione perché comunque piega bene una canna rimane molto bella rigida la sensazione è molto rigida molto pronta alla cercata e utilizziamo cimini molto morbidi ma attenzione perché noi questa pesca la facciamo anche dalla scogliera la facciamo anche dalla spiaggia utilizzando sempre il granchio e il muscolo prevalentemente dalla scogliera con queste due esche e dalla scogliera a questo punto un 3 metri 30 un 3 metri 60 potrebbero diventare interessanti sappiate che la 3 metri 60 mantiene comunque il fusto rigido della 3 leggermente meno ma comunque mantiene sempre queste caratteristiche il costo più o meno siamo lì perché comunque la qualità è quella lì e quindi anche la 3 metri 60 forse la 3 metri 60 potrebbe andare bene per chi di voi vuole provare insidiare l'orata e diciamo in altre regioni dove magari non avete presenti moli pontile eccetera eccetera quindi potete fare assolutamente la scelta potrebbe ricadere sulla 3 30 3 60 quindi ragazzi questa poi ecco non ci dimentichiamo chiaramente le pesche di chi inizia chi di voi volesse iniziare e avere una canna per pescare a fondo un po tutto fare perché cambiando i cimini possiamo adeguare un pochettino tutto perché no vi dico anche una cosa una tre metri 60 con un pasturatore a fondo potrebbe andare bene rimango della mia idea questa canna a me piace nella tre metri ma perché noi lo utilizziamo per un uso ben specifico ma anche nella 3 60 appunto un pasturatore utilizzato non troppo leggero potrebbe andare bene e quindi per chi vuole iniziare vuole una canna che faccia un po di tutto la trovo una bella canna veramente voto 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 vi do un voto 9 9 perché il 10 me lo tengo solo in casi del tutto eccezionali però vi assicuro che è più propenso al 10 che al 9 è una canna assolutamente di tutto rispetto con un ottimo rapporto qualità prezzi ragazzi qua la tubertini ci sta abituando veramente a degli oggetti belli e soprattutto rifiniti in una maniera fantastica uno stile che a me piace tantissimo e su questo genere di cane non solo anche sulle canne da traina sulle bolognesi stanno sono veramente contento di poter collaborare con questa azienda bene ragazzi detto questo spero che questo video vi abbia fatto piacere continuate a seguirci sulle nostre pagine facebook fisherlandia mondo pesca sportiva e iscrivetevi al nostro canale youtube condividete il video se vi è piaciuto mettete un like io e la nuova ancor age quindi appena arrivata nel nostro negozio è già disponibile al link qua sotto vi salutiamo e come sempre che la pesca sia con voi ciao ragazzi